Cazzo il Marco fa scuola eh! Fa scuola il Marco, guarda che roba! Si, eh ma adesso è andato a casa, è andato! Quando non lo vedi più è caduto in qualche buco è lì o è andato a casa? Due sono le cose! Bravo! Grazie a tutti! Ci sono arrotati uno con l'altro! Ciao! 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 Grazie per la visione!